Io mi chiamo Paolo, ho 28 anni, un po' ne faccio 29 di anni. Mi piace fare tanti, mi piace fare mostri, mi piace fare il gatto, gatto grazzone l'ho chiamato. Mi piace sempre andare in giro tutti, prendere sempre un caffè al bar. Io mi chiamo Daniela Ansemmo, sono nata a Monreale, provincia di Palermo, sono dell'82. Io abito con il mio compagno, mi piace, mi piace tanti lavori per imparare. Vedo un disegno che mi piace e lo prendo un foglio bianco e lo disegno. Poi ho preso lo scotch per fare tutto il contorno con la bio. Poi prendo un altro pezzo di scotch per i pezzi che faccio e lo metto nel metallo. Ho iniziato a prendere l'alpacca del bronzo. Prendo il pezzo, vado nel banco e taglio. Poi quando ho tagliato i pezzi bene, con segreto, ho tolto lo scotch. Poi ho iniziato a limare i pezzi. E perché c'erano i pezzi molto difficili, ho preso una lima come questa qui. Poi lo pulisco con la carta di smenillo. Riscaldo tutti i pezzi, metto la lega, sbaglio tutta la lega. Abbiamo scaldato tutto perché abbiamo dovuto saldare tutti i pezzi. Abbiamo dovuto saldare tre colli, tre occhi, tre sopracciglia, un naso, una dentiera da denti. Poi lo prendo e lo pulisco. Vado nella macchina e pulisco di più il pezzo. I lavori che facciamo noi vogliamo vedere che la gente li compra. E così vado a gli soldini. Questo mostro sarà bene. Fa un po' paura, ma io tanto non ho paura dei mostri a tre occhi.